Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Ivan Tonon Che lavoro fai? Lavoro per Netgear e sono Product Marketing Manager per l'Europa Dimmi cos'è Orbi in pochi secondi Orbi è quello di cui tu hai bisogno per risolvere in maniera definitiva i tuoi problemi di wifi a casa tua Spiegami cosa c'è di nuovo nella famiglia Orbi Orbi abbiamo introdotto dei nuovi prodotti con lo stesso concetto ma che vanno a coprire esigenze diverse Per case di dimensioni diverse, per appartamenti eccetera e anche per coprire dei prezzi diversi Ok, adesso però fammi vedere com'è Orbi Meno male che mi hai fatto sta domanda, eccolo qua Dammi tre motivi per acquistare Orbi Allora, innanzitutto perché va, come ho detto prima, a risolverti in maniera definitiva i problemi di wifi La seconda cosa è che lo fa da solo Tu non devi essere un esperto, basta che lo compri, è facilissimo da installare e il gioco è fatto E il terzo motivo, perché secondo me è anche proprio carino Guarda, bianco è proprio carino, mi piace, mi piace Perfetto, ora di solo ciao ai nostri lettori Ciao! Ciao ciao! 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 Ciao!